Ciao ragazzi oggi vi presento un'analisi tattica predittiva di quello che potrebbe essere il match fra Olanda e Argentina avendo studiato un po' le tendenze tattiche delle due squadre nelle precedenti partite andremo a vedere quali possono essere i punti di forza, i punti di debolezza nel confronto fra queste due squadre e perché dal mio punto di vista l'Olanda parte con i favori del pronostico le squadre si affrontano con due sistemi di gioco differenti il 3-4-1-2 di Van Gaal contro il 4-3-3 di Scaloni partiamo dalla fase di possesso dell'Argentina ed in un possesso dell'Olanda gli orange si posizionano come prima linea di pressione poco oltre il cerchio di metà campo e quindi mi aspetto che sia l'Argentina a gestire il possesso del pallone in questa partita o almeno nelle prime fasi di gioco i due attaccanti Gakpo e Depay contro una difesa 4 cercano di oscurare il passaggio sull'esterno basso mentre lasciano piuttosto liberi i due difensori centrali di gestire il pallone e scegliere il passaggio da effettuare il trequartista Klassen va a gestire il play avversario mentre De'Ron e De'Young vanno a seguire a Uomo gli altri due centrocampisti avversari nel caso in cui l'avversario dell'Olanda riesca ad arrivare sull'esterno basso allora poi tutta la linea difensiva si sposta da quella parte diventando subito aggressiva sui riferimenti ma è appunto importante capire come i centrocampisti seguono a Uomo il proprio riferimento anche in seguito a delle rotazioni e soprattutto l'Olanda cerca di non far arrivare il pallone all'esterno basso per mantenere i quinti di centrocampo arretrati vicino ai tre difensori una situazione di pericolo che si è venuta a creare contro gli Stati Uniti che è riuscita a superare questa pressione è il movimento dell'esterno basso ad avanzare e ad aprire la linea di passaggio diagonale del difensore centrale soluzione che si potrebbe vedere anche contro l'Argentina inoltre in virtù delle marcatura a Uomo quando un attaccante si stacca e viene molto incontro nel campo il difensore è tenuto a seguirlo dall'altra parte l'Argentina come detto potrebbe mantenere il possesso del pallone si schiera inizialmente con questo 4-3-3 dove Messi è molto mobile si può trovare in ogni zona di campo qua agiva da mezzala mentre De Paul da prima punta e frequentemente il centrocampista centrale Enzo Fernandez si abbassa fra i due difensori centrali mentre gli esterni bassi avanzano molto sulle corsie laterali dalla lavagna tattica avendo visto le situazioni di non possesso dell'Olanda e di possesso dell'Argentina vediamo quali potrebbero essere le contrapposizioni di questi due stili di gioco innanzitutto l'Olanda rimane con una linea difensiva piuttosto alta cercando di restringere gli spazi fra le linee Gakpo e Depay che vanno a gestire e a oscurare il passaggio su Molina e Acuna è una situazione che si potrebbe andare a creare pericolosa è proprio questo movimento di Acuna oltre il numero 8 dell'Olanda per andare a ricevere il pallone oltre la pressione qua dovranno essere molto bravi i quinti di centrocampo Blind e Dumfries a leggere queste situazioni ed eventualmente andare ad intercettare il pallone mentre invece quando la squadra di Scaloni va a costruire a tre con Enzo Fernandez all'interno della linea difensiva allora probabilmente Klassen che prima seguiva Uomo numero 24 rimarrà un po' più conservativo con ancora Gakpo e Depay ad andare ad oscurare la linea di passaggio fuori ma con questo movimento Acuna e Molina faciliterebbero il lavoro di Blind e Dumfries che sarebbero già più vicini al numero 8 e al numero 26 in più Messi che si sposta molto nel campo probabilmente verrà seguito a Uomo da Van Dijk i sudamericani in fase di possesso però dimostrano poche idee spesso i giocatori sono troppo lontani fra loro e chi è in possesso di palla non ha soluzioni efficaci di passaggio e i movimenti di centrocampisti attaccanti sono individuali non corali senza un'idea di gioco ben definita e per questo anche leggibili dall'avversario in quest'azione il Papu Gomez è all'uno contro uno sulla fascia laterale e i suoi compagni di squadra più vicini sono tutti marcati che non effettuano un movimento deciso e che non cercano di smarcarsi e questo è il primo punto e forse il principale di debolezza dell'Argentina di Scaloni quella di non avere un'identità di gioco, un'idea di gioco corale che coinvolga tutti i giocatori ma che si cerchi spesso solamente l'iniziativa individuale e contro una squadra organizzata come l'Olanda questo potrebbe essere un problema perché tutti i giocatori saranno marcati in maniera intensa in maniera intelligente in funzione dell'idea di gioco invece di Van Gaal l'unico fattore che invece potrebbe rompere questa situazione di gioco è il numero 10, Leo Messi, che è ampiamente ricercato dai suoi compagni di squadra e che spesso si affidano solamente a lui per creare situazioni pericolose e riuscire ad arrivare al tiro in porta come detto l'Olanda è una squadra molto intensa nella fase di non possesso tutti i giocatori sono coinvolti, attivi, creano grande densità nella zona centrale del campo sotto la metà campo e una volta recuperato il pallone riescono spesso ad andare in transizione positiva in maniera veloce ed efficace passando frequentemente da Depay che poi innesca la verticalizzazione per Gakpo dall'altra parte invece le transizioni negative dell'Argentina possono essere un problema in quanto i sudamericani portano molti giocatori oltre la palla qua sono addirittura 7 e nel momento in cui la perdono potrebbero essere disequilibrati sotto la loro metà campo passando quindi alla fase di non possesso dell'Argentina e di possesso dell'Olanda vediamo che anche qua la squadra di Scaloni è piuttosto disorganizzata non ci sono delle uscite codificate sui giocatori della squadra avversaria in questo caso addirittura sia il Papu Gomez che McAllister stanno andando in pressione sullo stesso giocatore in ritardo in questa azione di parità numerica tutti i giocatori della linea difensiva dell'Australia sono smarcati e possono giocare il pallone senza pressione e nella stessa azione al venticinquesimo vediamo prima che a sinistra sono due attaccanti a gestire la prima costruzione avversaria poi a destra addirittura Molina a rompere sull'esterno basso australiano mentre il Papu Gomez agisce da mezz'ala De Paul più avanzato insomma senza una vera idea di non possesso sempre ad altezze diverse e anche concedendo molto spazio in ampiezza sul lato debole e anche spazi fra le linee proprio perché se la pressione non è organizzata e spesso individuale non tutti i giocatori la capiscono e si vanno a creare spazio sia fra la linea di centrocampo e di attacco che fra quella di difesa e di centrocampo e questa poca organizzazione dell'Albi Celeste potenzialmente sarà sfruttata in maniera molto efficace dall'Olanda che nella costruzione dal basso soprattutto a partire dal portiere coinvolgendo De Jong riesce sempre a trovare il giocatore libero che spesso contro gli Stati Uniti e probabilmente anche contro l'Argentina sarà Timber il quale ha la tendenza ad allargarsi molto sulla destra e quindi a mettere ancora in più in difficoltà il giocatore che deve accorciare le distanze su di lui sulla sinistra invece si vede spesso una giocata codificata per l'Olanda andando con un giro palla sul quinto di centrocampo Blind il trequartista Klassen che non si avvicina a quella zona di campo attraendo su Ditzay il centrocampista centrale avversario mentre invece uno dei due attaccanti viene incontro per ricevere il pallone vediamo proprio questa situazione dalla lavagna tattica con il pallone che va da Kea Blind l'Argentina che avrà difficoltà a gestire questo giocatore il quale si abbassa molto nel campo e quindi l'esterno basso Molina avrà difficoltà ad arrivare sul numero 17 e poi la parla verticale per Depay con Enzo Fernandez attratto da Klassen che quindi non può andare ad intervenire sul pallone De Jong che va a scarico e poi dall'altra parte Gakpo che è un giocatore molto veloce tecnico ed efficace nell'attacco della profondità può andare a ricevere il pallone proprio in profondità dall'altra parte quanto detto prima con Timber che tende ad allargarsi molto sulla destra e quindi ad avere spazio per ricevere il pallone anche favorendo l'avanzamento di Dumfries sull'ultima linea difensiva avversaria per poi andare a creare potenzialmente superiorità o sfruttare l'uno contro uno del numero 22 molto efficace in queste situazioni di gioco il giocatore dell'Inter oltre a cercare di creare combinazioni per andare al cross può diventare un finalizzatore come dall'altra parte blinde sui cross dal fondo infatti i quinti di centrocampo tendono sempre a chiudere sul secondo palo come è avvenuto contro gli Stati Uniti per il gol del definitivo 3-1 bene ragazzi questa è la mia analisi su quello che potrebbe essere Olanda-Argentina credo che la squadra di Van Gaal sia decisamente più organizzata sia nella fase di possesso che non possesso rispetto alla squadra di Scaloni e fatemi sapere secondo voi come potrebbe andare questa partita e noi ci vediamo una prossima analisi tattica e noi ci vediamo una prossima analisi tattica e noi ci vediamo una prossima analisi tattica